Ciao a tutti, oggi prepariamo la pizza in una panetta frita. Questa è la pizza. Ecco, questo è il ingrediente che possiamo farlo. 225 grammi di farina dove aggiungiamo 1 teaspoon di salto. 125 ml di acqua dove aggiungiamo 0,5 teaspoon di salto e 0,5 teaspoon di zucchero. E ora lo completiamo con 1 tablespoon di oliva extra virgine. Ora possiamo lavorare la nostra panetta per 5 minuti. Ora possiamo aggiungere 2 teaspoon di farina. 1 teaspoon di farina. Fanta con la modela. Sera di farina. 5 minuti. Pire grossi a fai. Ora che abbiamo diventato il nostro pane in due pelle, dovremmo aspettare due ore. Questa volta possiamo preparare il topping della pizza. Per il topping usiamo 200 grammi di salsa di tomato, 1 tablespoon di oliva di oliva extravergine, 2 glutei, 1 teaspoon di salto, 1 tablespoon di origano e 100 grammi di mozzarella. Non sarebbe acceso. Ora mettiamo l'altra parte e rilassiamo l'altra parte. Questa è il trucco. Ora mettiamo l'olio in questa pancia di bianca. Lo mettiamo all'interno e dopo mettiamo l'olio in questa pancia. E we smash again. Ungiamo leggermente anche il bordo della padella. Poi posizioniamo la pizza all'interno. La mettiamo sul fuoco, la copriamo e la lasciamo cuocere a fiamma bella alta perché l'obiettivo è bruciacchiare un po' il bordo. Dopo due minuti rilassiamo la copriamo. Ho un piccolo problema perché il mio pò è troppo grande. Quindi il rilassamento della pizza non può diventare dolore. Ora lascio rilassare. Ho cuocato altri minuti. E dopo mettere la pizza all'interno, e finiremo con la top. Dopo 30 secondi, 1 minuto, turniamo il fuoco e andiamo all'interno della pizza. solo tre. e andiamo all'interno di due minuti. La nostra pizza è pronta. Ora faccio la seconda pizza direttamente nella padella. In questo modo vi mostrerò perché ho usato questo metodo. i riccchiare un po' di tutto. Grazie a tutti. Dopo solo 3 minuti possiamo dire che la seconda pizza è pronta, ma sotto è, possiamo dire, burn, e sul top è ancora bianco, questo è il motivo prima di usare l'altra tecnica. Ora vi vedo le differenze, come potete vedere, questa è una crosta, molto crosta. Ok, ora possiamo andare a provare questa, la migliore. Grazie a tutti. Spettacolare, davvero yummy, specialmente con i crunchi. Allora, non so come chiamare questa. Se lo vedete, lasciami sapere. Bye bye! Ah, ricordo di abbiornare al canale, di lasciare un like e di guardare gli altri video. Bye bye! Ciao! 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 Ciao!